Io mi sono sempre un po' così rammaricato di essere stato in posti d'arte come Arezzo ad esempio e di aver raccontato altro, cioè il brutto della vita, della cronaca. E allora mi sono sempre detto che andava recuperato questo errore che la professione ti metteva di fronte. Per anni è raccontato in televisione la cronaca nera italiana e le vicende più oscure della storia del paese. Adesso Ramo Croci, giornalista e scrittore, ha lasciato il microfono per impugnare il pennello. Ed è bello perché lo faccio con la passione, lo faccio con l'emozione e poi quando siamo di fronte a questi colori credo che si apprezzi veramente la vita, perché la vita è la bellezza. All'Hotel Book di Arezzo in occasione della Fiera Antiquaria di Maggio l'estemporanea di pittura dal titolo Ieri, Oggi e Domani. Il percorso artistico di Ramo Croci, San Benedettese e Doc attraversa il mare, ma non solo, passa anche dall'astrattismo e dalle installazioni, un percorso segnato da una forte componente emotiva. Non si rinnega nulla del passato, io sono molto contento di aver fatto quel tipo di percorso con Mediaset. Ho avuto la possibilità veramente di conoscere tante persone, tanti casi di cronaca nera giudiziaria di cui sono occupato e tutto è servito per avere sempre un'esperienza che non è mai fine a se stessa, ma anche qui nel campo dell'arte quell'esperienza, la conoscenza delle persone mi ha aiutato ora anche a conoscere altre persone. E quindi due modi di vivere diversamente, ma che poi alla fine confluiscono sempre nel rapporto personale.